METEOSETTE.IT che si mostrerà più attivo sulle regioni centrosetenzionali. Nel corso di questo fine settimana la nostra regione verrà interessata da deboli correnti orientali in un contesto termico al di sopra della media del periodo. Quali saranno le condizioni meteorologiche, Giuseppe, di questo fine settimana e quindi di sabato 23 e domenica 24 marzo? Le giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo saranno pressoché identiche, con cielo, sereno o poco nuvoloso ovunque, a parte la formazione di dense foschie e banchi di nebbia nelle vallate e pianure interne durante la notte e al primo mattino. Temperature in aumento nei valori massimi, in lieve calo le minime della notte nelle aree vallive, venti deboli da est e mare poco mosso. E per quanto riguarda la tendenza della prossima settimana, cosa puoi dirci? Lunedì la configurazione barica a livello europeo inizierà a cambiare a causa del ritiro dell'alta pressione dal Mediterraneo, destinata a migrare verso il nord atlantico. Questo favorirà la discesa di aria piuttosto fredda di origine artica verso le basse latitudini europee, aria fredda che inizierà ad affluire sulla nostra regione nella giornata di martedì, determinando nel giro di 24 ore una sensibile diminuzione delle temperature, anche oltre i 10 gradi centigradi. Ancora una volta dunque, la primavera ci mostrerà il suo volto instabile e freddo, con possibili nevicate a quote di bassa montagna tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti